Durerà fino all'inizio di aprile la raccolta farmaci nelle sei farmacie comunali dell'Aquila. La raccolta, denominata Insieme per l'Ucraina, ha totalizzato in una settimana circa 350 pezzi tra farmaci da banco, prodotti per la medicazione e la disinfezione e prodotti destinati all'alimentazione dei piccoli. Questi beni saranno destinati in parte ad essere stoccati presso il Comitato della Croce Rossa Italiana dell'Aquila perché verranno destinati all'assistenza della popolazione di quei cittadini dell'Ucraina che stanno raggiungendo numerosi in questi giorni sia la città dell'Aquila che i comuni limitrofi. Un'altra importante parte invece sarà dirottata presso l'interporto della città di Avezzano dove saranno soggetti a classificazione, a catalogazione e verranno poi spediti nelle terre colpite dalla guerra. In questa sede io voglio ringraziare i nove farmacisti dipendenti dell'FMSPA, delle farmacie comunali dell'Aquila che si sono prestati come volontari in Croce Rossa Italiana per l'attività di classificazione e di catalogazione di questi prodotti presso l'interporto di Avezzano. La raccolta è stata lanciata dai giovani imprenditori di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno in collaborazione con AFM, azienda farmacie comunali, e Giovani di Ance, associazione nazionale costruttore edili dell'Aquila. La risonanza che ovviamente, tristemente, questa vicenda sta avendo anche nel nostro territorio però ha avuto l'effetto di dare ancora di più un aiuto in qualche modo alla nostra raccolta. Tanti sono stati gli imprenditori ma anche i cittadini che siamo riusciti a coinvolgere in questa raccolta. I primi ad essere sensibilizzati sono stati gli imprenditori delle due associazioni che hanno subito risposto. Non c'è stato possibile rimanere a guardare e ci siamo attivati insieme agli altri partner per raccogliere farmaci e beni di prima necessità da dirigere verso questi paesi e anche da mantenere qui nel nostro territorio a favore dei profughi che arriveranno.